cari amici di mille un'avventura torniamo a parlare di unity in questo video in particolare di quel gioco che vorremmo realizzare per poterlo poi giocare online con gli iscritti quindi un gioco multiplayer grazie a unity si può creare un sistema per esempio di terreno in questo caso un terreno con sentieri e vari edifici varie altre caratteristiche del terreno e vogliamo generarlo proceduralmente chiaramente alcuni ci hanno detto ma perché non li metti a mano non li posizioni a mano perché vogliamo realizzare qualcosa di procedurale non sempre uguale tutte le volte che giochiamo perciò come vedete siamo arrivati nel video precedente della settimana scorsa a creare tutta una ragnatela di sentieri che non ci soddisfa più di tanto vediamo in questo video come realizzare qualcosa di più semplice da visualizzare tra sentieri rocce e quant'altro e poi andremo anche a vedere quale tipo di multiplayer di servizio multiplayer vorremmo provare e andiamo subito quindi su unity eccolo qui il nostro editor di unity con tutti i pezzi che vogliamo assemblare in questi terreni esagonali se vi siete persi il video precedente lo troverete linkato qui da qualche parte e ripeto vogliamo generare in modo procedurale un terreno con edifici e altri elementi del terreno e per fare questo ho pensato che la situazione che avete visto la scorsa volta era un po' troppo caotica troppi sentieri troppe ragnatele si venivano a formare e allora una prima cosa che che ho modificato nel codice invece di tenere tutti i possibili raccordi tra i sentieri che prevedevano per esempio anche un esagono con sei lati da cui si dipartivano sei sentieri addirittura ho pensato di ridurre gli esagoni a un numero limitato che al massimo avessero tre sentieri che già sono tanti che si dipartono da questo centro perciò vedete che in quel con quel sistema di lettere che avevamo provato avremo un esagono completamente verde un esagono con un sentiero che parte un esagono con due sentieri che lo attraversano orizzontalmente e così via perciò limitiamo un po' questi esagoni e poi l'altra cosa e l'avete vista qui nel nella schermata sopra di me ho distinto gli edifici che partiranno dai sentieri dagli elementi del paesaggio che andranno occupare le caselle completamente verdi perciò le montagne le foreste saranno su caselle completamente verdi mentre i vari edifici partiranno da dove inizia un sentiero e a questo punto andiamo a vedere cosa abbiamo ottenuto finora eseguendo la nostra simulazione ecco vedete che qui abbiamo una situazione mi posiziono un po' più a favore di del terreno ecco vedete che abbiamo questo terreno così sagomato e tutto intorno adesso con le modifiche che ho fatto al codice ci sono dei degli esagoni verdi si potrebbe per esempio tutta questa serie di esagoni verdi sul sul perimetro trasformarli in esagoni marroni oppure beige tipo sabbia per mettere tutto intorno il mare l'acqua così abbiamo una nostra isoletta a forma di rombo a forma sì di rombo questo questo rombo che vedete e diventerebbe un'isoletta su cui si potrebbero muovere le nostre unità e poi vedete che il sentiero è diventato un pochino più interessante non ci sono quelle ragnatele assurde ci sono sì tanti sentieri che si intersecano in modi particolari però non ci sono più troppi intrecci e su tutti gli esagoni solo prato vedete sono comparse delle rocce come queste sono comparse delle collinette come queste oppure delle intere foreste diciamo delle chiazze di foresta oppure delle zone un po meno popolate di alberi invece da dove iniziano i sentieri trovate i vari edifici ci sono alcuni ecco per esempio questo mulino a vento parte sì un sentiero ma questo sentiero poi torna indietro quindi è una situazione da evitare possibilmente e poi invece questa torre vedete parte un sentiero che va ad altri edifici e tutto però casuale procedurale e poi tutte quelle rocce che vedete lì che magari le unità potrebbero faticare a superare così come i boschi e le montagne per esempio questa montagna qui perciò modificato il codice in modo da mettere i bordi uniformi e limitare un pochino questi sentieri e mi pare che sia già una cosa un po più accettabile proviamo a modificare il nostro numero di esagoni per esempio mettiamo solo cinque esagoni per lato questo cinque esagoni per lato darà una situazione un po più limitata e vedete che addirittura qui non riescono a saltare fuori dei sentieri saltano fuori solo ecco vedete un sentiero tra il mulino a vento e l'altro edificio che è una casa ecco lì c'era questo sentiero e si ferma lì parte da una casa arriva al mulino perciò è chiaro che un'isoletta così un po troppo scarna ci sono solo montagne solo alberi e allora proviamo a invece fare una cosa incredibile mettiamo 25 esagoni per lato vediamo se la ventola della scheda grafica comincia a farsi sentire ecco che viene prodotto ed ecco qui tutta la nostra isola con tutti questi sentieri e poi ci sono i castelli ci sono i boschi e qui parte un sentiero che fa un giro arriva a questa segheria e poi ci sono tanti altri edifici e vedete che adesso è davvero un territorio molto popolato con tanti sentieri forse anche troppo vasto per un giochetto tra alcuni alcune unità che si incontrano faranno cose bene questo è il il paesaggio come si presenta adesso ovviamente farò ancora delle modifiche però per concludere andiamo a vedere come che cosa vorrei provare a utilizzare a meno che adesso non mi venga in mente che qualche codice è interessante da vedere però diciamo che il concetto di scegliere un esagono per colpa dei bordi laterali ecco deve essere più stringente in certi casi però il principio è sempre quello che vi ho spiegato nel video precedente quindi direi di andare a vedere invece che tipo di multiplayer che sistema di multiplayer vorrei provare ed è uscito questo coherence il sito è coherence.io che è un motore di rete con sdk una piattaforma che permette di creare giochi multiplayer in pochi minuti adesso vedremo in quanti minuti si possono realizzare io di sistemi per il multiplayer ne ho già provati tanti ne ho già mostrati parecchi sul canale pensavo di usarne uno completamente gratuito che sfrutta meccanismi tipo torrent che sono diciamo distribuiti su tutto il pianeta e funzionano in modo gratuito pensavo di usare quel genere lì tanti mesi fa avevo fatto vedere l'esempio però visto che è uscito questo coherence da poco e che ci lavora anche un italiano non so se lo conoscete Ciro Continisio che una volta era su unity e si occupava era impiegato impiegato era programmatore in unity e si occupava di tutorial per esempio doveva era parte del team che doveva realizzare gigaia questo multiplayer sandbox open world che unity a un certo punto meglio i capi di unity avevano deciso di produrre per poi a un certo punto cancellarlo e licenziare parecchi di questi programmatori che stavano lavorando al progetto per un ridimensionamento del del proprio dei propri dipendenti beh Ciro è andato a lavorare qui a coherence visto che era molto addentro al motore unity quindi non ha avuto difficoltà a trovare una nuovo impiego sempre nel mondo dei videogiochi e quindi mi ha interessato capire come funziona e sembra molto promettente addirittura per il momento se andiamo a vedere pricing quanto costa si può usare gratuitamente per provare e lanciare il gioco quindi finché non diventa qualcosa che sfonda voi potete usare questo sistema gratuitamente e non sono ancora usciti le i piani a pagamento abbiamo già visto in tanti altri siti come ci sia un tier free gratuito fino a un certo punto e poi ci siano quelli a pagamento che dipendono dalle dimensioni che acquista il vostro gioco ecco qui la versione basic gratuita supporta fino a mille giocatori in contemporanea il che non vuol dire tutti nello stesso gioco ma distribuiti magari su più istanze dello stesso gioco e quindi magari se avete che so 100 istanze attive in ciascuna di queste lobby ci possono essere 10 giocatori che stanno giocando assieme quindi potete davvero testare il vostro gioco in modo decisamente importante e questa questo tier free include 20.000 crediti non so come vengono vengano conteggiati però mi piacerebbe provare poi un giorno usciranno anche i a pagamento i vari le varie possibilità quindi può essere utile visto che stanno anche loro testando un po tutto quanto vedere come funziona e poi magari provare altri metodi visto che è un progetto amatoriale mi interessa fare questa prova e quello che dicono all'inizio avete visto un network engine che in cui con cui si può ricavare un gioco multiplayer in pochi minuti cosa intendono e qui c'è un video che trovate su youtube sul canale di coherence che ha solo 41 iscritti ma iscrivetevi se vi interessa l'argomento del multiplayer perché escono sempre dei tutorial stanno uscendo e in pratica in questo tutorial che adesso eseguo si vede come trasformare un gioco single player con questo dimostrativo delle volpi di questo programmatore che sull'asset store di unity fornisce le cavalcature questo è gratuito questa volpe che si muove e praticamente hanno mostrato che in cinque minuti si può trasformare il dimostrativo con un'unica volpe che gira per la mappa quindi un gioco single player si può trasformare in multiplayer e quando hanno fatto la prova per realizzare questo hanno fatto partire un cronometro e in 4 minuti e 45 sono riusciti a trasformare il gioco da single player a multiplayer quindi può essere un motivo interessante provare questo nuovo sistema questa nuova piattaforma per creare giochi multiplayer per renderci conto se funziona bene e se vale la pena magari un giorno il nostro gioco diventerà famoso lo compreranno tutti allora magari potremo anche permetterci di affittare un po' di questi server ovviamente non succederà mai ma sognare come si dice non costa nulla e andiamo a vedere ancora un po' di scena qui qui fanno vedere appunto il dimostrativo addirittura funziona su nei browser questa cosa e adesso vediamo ancora se fanno partire ecco qui hanno fatto partire ecco le due volpi una è comandata dall'editor e l'altra invece è sul browser e quindi si potrebbero collegare tanti giocatori e ovviamente non basta questo per creare un gioco questo è il simpatico tadei gregorchic che ci ha spiegato tutte queste cose e dicevo non non è sufficiente tutto questo per creare un gioco ci vuole il gioco al limite single player e poi si può fare questo salto per avere più utenti assieme e poi ci vuole una logica del gioco che permetta di farli interagire bene direi che ci proveremo una delle prossime settimane cercheremo sicuramente la prossima settimana finalmente di mettere delle unità sul nostro terreno per farle muovere ne metteremo una che muoveremo tipo single player e poi proveremo se in cinque minuti anche noi metteremo il cronometro se in cinque minuti si riesce davvero a trasformare quel gioco single player in multiplayer con tanti pupazzetti tante unità che se ne vanno in giro e magari chissà si potrebbe fare una diretta in cui gli iscritti possono interagire ecco come vedete in questo caso con i pupazzetti che se ne vanno in giro ognuno comandato da un iscritto diverso vedete 4 e 45 sono i minuti 4 minuti e 45 il tempo che hanno impiegato a trasformare il gioco da single player in multiplayer ovviamente lo ha fatto uno che è pratico del sistema noi ci metteremo sicuramente molto di più bene pare che abbiano fatto dei gol perché sento delle urla nella stanza a fianco dove stanno guardando una partita credo sia milan inter non so chi ha segnato va bene vi ringrazio per l'attenzione se vi interessano queste cose commentate qui sotto e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti